Vada pure! Movimento 5 Stelle Veneto davanti all'ufficio postale di Padova, zona Arcella. Stanno consegnando in posta per l'invio alla Regione Veneto una serie di osservazioni sia per il piano CAVE che per il piano energetico della Regione Veneto. Più di 6.000 osservazioni, sono tutti questi flicchi di carta di un peso comunque importante che non possono essere consegnati a mano in Regione perché la Regione lo ha vietato ma devono essere consegnati via posta. Quindi i cittadini del Movimento 5 Stelle stanno manifestando in Arcella a Padova.